Il Partito Democratico Campano si appressa al Congresso che vedrà l'elezione del nuovo segretario regionale. Fino al 16 febbraio, giorno del Congresso, i tre candidati alla poltrona di successore di Enzo Amendola, Assunta Tartaglione, Guglielmo Vaccaro e Michele Grimaldi, organizzeranno a Napoli e nelle altre province della regione una serie di confronti con i cittadini. Nel frattempo a scaldare il clima ci ha pensato Michele Grimaldi, che nel corso della presentazione della sua candidatura non ha risparmiato critica al suo partito per la scarsa opposizione fatta in Consiglio regionale alla giunta a Caldoro. A Grimaldi ha risposto così il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Peppe Russo. Penso che di opposizione a Caldoro l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta anche intensamente. Abbiamo svelato tutte le debolezze di questa amministrazione sulla sanità, sui trasporti, sulla cultura. Credo però che bisogna intendersi sul termine opposizione. L'opposizione non è rissa, non è strillare. L'opposizione è dimostrare che la maggioranza non ha soluzioni credibili per risolvere i problemi dei cittadini e avere noi la capacità di offrire le soluzioni più giuste per risolvere i problemi dei cittadini.